buongiorno a tutti e buona domenica a tutti e bentornati su F1 19 come già detto nell'altro video passiamo subito alle qualifiche Allora Qua ci dice... vai, ce la possiamo fare? Giustamente l'ho simulato le altre prove libera. Monaco! Dai vai la pista, tranquillamente ho parco chiuso, si, si dai, tanto, uuuuuh, ah, così, va, va, pronti, partenza via, subito una botta per non perdere il vizio, ecco, mi dice poi la macchina se la prende perché non prende botte, allora, giustamente... un pezzo lo tocco sempre? Eh vabbè... eh vabbè... si, ho toccato un pezzo di... ho superato... oh 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 oh... ma porca... fa attenzione a non schiacciare altro... nooo... un giro più veloce Hamilton, fai capire... hanno già comprato le qualifiche... che cavolo... siamo delusi ma domani possiamo ancora capovolgere la situazione... certo, si, si... la capovolgiamo, tranquillo... le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre, Hamilton... la ribaltiamo domani... domani faremo grandi cose... fidiati... sarà sicuramente così... allora... vabbè... questo non mi interessa tanto... dai dai... che sfortuna, non è proprio il piazzamento in cui speravamo... ma non preoccuparti... ma si... ma no... ma figurati... mica mi preoccupo... se te vuoi che pagate tutti i pezzi che io rompo... quindi... so cacchi vostri... dai 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 dai... ma chi se ne frega... son ventesimo... forse è stato tra i primi dieci almeno... dopo di fare gli eroi all'ingresso della sent-de-bot... c'è traffico... ed è più importante restare interi... va bene capo... siamo pronti... si parte... attenzione... signori... tutto pronto... partiti... siamo partiti... oh... frena 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 frena... va detto... non c'è bisogno di fare gli eroi... infatti... tutti subito che si bruttano come gli pesci dessi... non rompere... non entro i box e non rompere... che figo qua però... avvertimento collisione... ma ammazzati... sono loro che mi hanno spinto... ooooo... gira gira gira... gira gira... doom... io il colpo lì lo devo sempre... e che sole... ok... hai avuto un ottimo inizio... ci troviamo in una buona posizione... stai zitto... non parlare... che portigliella... ma che avvertimento collisione... ma stai scherzando... io o no? una strategia alternativa a disposizione sul DMF... ok... ma se Grosier... si tirerà dal cacchio... ma Russell era... ma porca... puzzola... ah no no... ma intanto... dammelo ancora un colpo... ma in realtà... ma in realtà... ma perché? scu... in realtà... lui... non io... hai una forte perdita di deportanza... l'auto ha subito... un grosso danno... all'ala anteriore... si ho capito... lo vedo... quindi mica guarda che torna... l'hai box... non ci penso ora... auto davanti... è tua sorella... quella pu... una grandissima puledra... ragazzi... questa la riprovo... eh... questa la riavvio... dai... ci provo ancora una volta... non c'è motivo di fare gli eroi... si 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 si... ho capito... basta che non mi... non mi parli ogni tre secondi... come un... 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 ecco... 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 dai 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 dai... Ok... Oh! Eh vabbè, scusa! Avertimento e collusione con cubico. Si, ho capito, ma... Ascolta... Non è che posso diventare invisibile, eh? ... Ma perchè parla? Hmmmmmmmmmm... Si sta bene, grazie. Mamma mia... 20 giri qua dentro ma non scazzare ecco cominciamo vai box perdi tempo intanto si sveglia la mia figlia non dare gas che amore vai le brum 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 abbiamo un'ultima sosta della nostra strategia ultima sosta per oggi ok aspetta aspetta la mia figlia vuole vedersi Bing mentre io sono nel bel mezzo di un gran premio di Monaco ti sembra possibile Daisy? vedi che sto gareggiando ferma adesso te lo metto io te lo metto te lo metto aspetta io non vedo più nessuno non si è rotta ancora aspetta non si è rotta non si è rotta non si è rotta non si è rotta no vedi nel Anna lo metto non ti sa prima il nuovo si è rotto girata ilоровo gioca il unity non ti sa Puoi usarla nelle zone di RS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Arrivarci all'auto che mi precede. È una parola. Oh. Oh. Occe che è solo. Nooo. Nooo! La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. Non peggioriamo la situazione. Tu sei zitto però. Non mi viene nulla. Che ci penso io? Il distacco dall'avventura davanti è 53,6 secondi. 53 secondi? E quando lo recupero? C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Questo mi ha già doppiato, ma porca... che gareggio a fuori. E' inutile, a meno che ho già doppiato. che gareggio a fuori. Pronti, vai! Che pardo! Fai attenzione all'econo e adesso devi finire la gara con il treno attuale. Sì. 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 Poi, a qualche punto... Pura da qui lo avevo fatto bene ho! Abba... Poi è peggioro qua. Sei al target più! 1 di carburante in eccedenza, target carburante più 1. Quindi? Che vuol dire? Boh. Non ho un paio di idee cosa possa voler dire. Boom. Allora adesso... Si si, te lo dico, mamma mia vado, ciao. Allora ragazzi scusate ma io... Penso che sia inutile... Continuare. Fatemi sapere solo qua sotto se avete che continuo la carriera oppure no perché è inutile che io spreco tempo a registrare. Ditemi solo voi. Se volete io vado avanti. Se no mi fermo. Ecco questo. Ma di cosa? Oggi più che Formula 1 sembravano autoscontri, no? Ero solo a botterle amichevoli. La tua macchina è piuttosto malconcia. Cos'è successo oggi in pista? No. Ma vado poi... Boh. Tu e il tuo rivale vi siete toccati. Chi ha sbagliato? Ehm... Questo lo è. Ottimo. Ed è tutto. Ciao. Quindi ragazzi fatemi sapere qua sotto. Se volete che continuo, se no mi fermo. E porto altri giochi. Questo ci mette 8 anni a caricare. Oh. Tutto rosso. Punti, me ne dà ben pochi. Completa 8 programmi di prova 600. Eh. Ma su quel circuito lì è impossibile, dai. Sembra che anche uno dei tuoi rivali parteciperà a un evento storico. Se decidi di sfidarlo, avrai l'occasione di farti conoscere meglio dal tuo. Vabbè. Ragazzi, allora ci vediamo al prossimo video. E... Scrivete qua sotto. Ciao a tutti. Al prossimo gran premio. Alle prossime prove. A un prossimo video. Ciao. Allora. Guys, ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Perfio di asfidio. Vi saluto. Grazie a tutti.